Nicola Molteni, una di quelle giornate da ricordare? Una giornata storica, una grande risposta di popolo allo Stato canaglia italiano, uno Stato che vuole processare le idee, vuole mettere in carcere le idee di autonomia e di indipendenza. Oggi c'è stata una grande risposta del popolo veneto, ma non solo del popolo veneto, la battaglia di indipendenza, la battaglia di autonomia del Veneto e dei territori è una battaglia reale, gli strumenti che lo Stato canaglia vuole mettere in atto per bloccare questa battaglia di libertà non la bloccheranno e io credo che quando il popolo si muove, quando il grande popolo del nord, il popolo veneto, il popolo lombardo si muove, non basta e non ci potrà essere uno Stato a bloccare questa battaglia, questa voglia di libertà che è una voglia ormai contagiosa e che porterà alla libertà, all'indipendenza, all'autonomia del popolo veneto, ma non solo del popolo veneto. Lei molto spesso ha denunciato questo Stato per lo svuotacarceri perché l'essere clandestino non è più reato e invece vanno in prigione questi ragazzi. La vergogna di questo Paese è che esattamente lo stesso giorno in cui 24 liberi cittadini veneti sono stati messi in galera, è stato approvato in Parlamento con la responsabilità di tutti i partiti tranne della Lega il quarto svuotacarceri, si rimettono in libertà pedofili, spacciatori, mafiosi, ladri, criminali si mettono in galera gente onesta. Questo è uno Stato canaglia, è uno Stato che merita la grande risposta che oggi ha avuto il popolo veneto, il popolo del nord, il popolo della Lega, ma non solo il popolo della Lega. Le idee non si processano, gli uomini onesti non si mettono in galera, in galera si mettono i criminali. Io credo che da oggi parta veramente quel percorso di libertà, quella attraversata nel deserto che porterà la libertà del Veneto alla libertà del nord.